Tra pochi giorni a Torre del Greco ritorna la festa dei quattro altari dopo anni di assenza e ci sarà un altare anche qui in piazza Santa Cruz, lei ne era a conoscenza? Sì, sì, ne sono a conoscenza perché per un fatto di viabilità non si poteva passare per andare a piazza Luigi Palù. Beh, questa è la prima festa dopo tanti anni, quindi speriamo che sia un nuovo inizio e che ogni anno si va sempre a migliorare, che sia una rinascita, come si diceva il proverbio post-fada-resurgo che post-fada-resurgo faccia rinascere veramente Torre del Greco e anche un po' la mentalità della gente di questo paese. L'amministrazione comunale in sinergia con la direzione artistica ha previsto diversi spettacoli e eventi in diversi punti del centro storico? Sì, sì, lo sappiamo, lo sappiamo, cioè sia Gazzè che Avidabile e La Maschera, poi ci sono altre compagnie, pure la compagnia che partecipo io, siamo a Via Falanga, a Via Teatro. La tua compagnia che cosa mostrerà alla gente di Torre? Farà uno spettacolo che si ripeterà per tre volte, si chiamerà La Festa, uno spettacolo di 20 minuti, che lo faranno in varie orari il giorno 21 luglio. Tu che ricordi hai personalmente di questa festa, nonostante siano molti anni che non si svolge a Torre? Io la ricordo bene, ricordo quando ero piccolo che andavo a pescare con mio nonno al porto e mio nonno mi portava in giro per le chiese, era anche amico di uno dei costruttori degli altari e mi portava a vedere come si costruivano. Tra pochi giorni ci sarà nuovamente la festa di 4 attrazione del Greco, ci sarà un altare anche qui in Piazza Santa Croce, lei ne ha conoscenza? Qui in questa piazza non è mai stato fatto, che io ricordi. E il suo parere qual è? Guarda la festa. Che ben venga, magari sono dei giorni che danno un incendio in più alla città, che hanno bisogno per i bambini, passare una giornata diversa, e poi crede che i torresi la rivolgono, perché piace come festa. Lei ha ricordi di questa festa? Certo, tanti anni fa, era bellissimo, speriamo che sia uguale pure adesso. Di questa festa qua c'è ricordi belli, cantanti, feste, bancarelli, la gente, una confusione di gente, tutto. Giusto costruirli, costruirla anche in questa piazza, perché diciamo è la piazza più importante della città. E l'amministrazione comunale in sinergia anche con la direzione artistica ha previsto diversi eventi in diversi punti del centro storico, tu ne andrei a vedere? Sì, sicuramente, sono tre giorni, quindi cercheremo di girovagare un po' per la città. È una cosa bella che è stata rivistinata, ci fa tornare ai tempi di bambini, ricordi belli, ricordi di gioventù, quindi sono bei ricordi, è stata una bella cosa rivistinata. Le nuove generazioni non la conoscono per niente, quindi speriamo che questa festività insomma riporti la cultura e le tradizioni che mancavano da tanto. Lei personalmente che ricordi ha? Allora io la ricordo, diciamo, bei ricordi, carissimi ricordi, perché ricordo che quando eravamo piccole con mamma, papà, era una festa, ci preparavamo, scendevamo, quindi ricordo gli altari, in particolare diciamo nei posti storici, quindi quello di via Roma, quello lì insomma a Corso Garibaldi, no bellissimi ricordi, assolutamente sì. Vediamo un attimo però la città come risponde e se riusciamo a trasmettere di nuovo le tradizioni insomma antiche.